Buon sabato, benvenuti e benvenuti alla prima edizione del TG6. A pochi giorni dalla sentenza della Cassazione riguardo le responsabilità di Edison sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino, 14 cittadini hanno firmato una lettera aperta indirizzata al capo dello Stato Mattarella affinché questo intervenga sulla causa di risarcimento che è bloccata da oramai due anni. Il Ministero e Regioni infatti avevano chiesto oltre un miliardo di euro a Edison ma il giudice non decide su un'eccezione procedurale. Intanto il comitato Bussi ci riguarda, chiede che lo Stato metta in mora la multinazionale, il servizio. In un paese che vuole dirsi civile non si vive in un territorio martoriato dall'inquinamento, non si continua ad essere esposti a sostanze pericolose, non si aspettano anni e anni per una risposta nei processi. Termina così la lettera aperta, piena di amarezza, indirizzata al Presidente della Repubblica. L'attenzione di Mattarella sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino è richiamata da 14 cittadini. Un numero di firmatari simbolico fu proprio 14 anni fa, infatti, che la prima discarica, la Tremonti, venne alla luce. L'intervento del Capo dello Stato, che è anche a capo della magistratura, dovrebbe sbloccare un procedimento giudiziario bloccato da due anni. Nel 2019, l'allora Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo hanno intentato, tramite l'Avvocatura di Stato, una causa risarcitoria in sede civile presso il Tribunale dell'Aquila contro la multinazionale Edison per i reati ambientali. La Cassazione penale ha sancito la prescrizione, ma ha riconosciuto la sussistenza dei reati, sia riguardo il disastro ambientale, sia riguardo l'avvelenamento delle acque. E' così che il Ministero e Regione, sulla base di perizie dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno chiesto a Edison oltre un miliardo di euro di risarcimento. Nelle stanze della giustizia, però, tutto è fermo. Da due anni il giudice non si esprime su una riserva avanzata dai legali della multinazionale. E questo, sebbene al tal proposito, ci fu anche un'interrogazione parlamentare nel 2020 da parte della deputata Pezzopane. E a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione, che conferma le responsabilità di Edison sulle discariche 2A e 2B, sulla questione interviene il comitato Bussi Ciriguarda, che chiede che lo Stato metta in mora Edison per la lentezza nella messa in sicurezza e nella bonifica, diffidandola a procedere. Finalmente, nell'estate del 2024, potremo vedere un primo lotto di circa 4 ettari bonificato, fanno sapere dal comitato. Tuttavia, non possiamo nasconderci che altri lotti importanti del sito di interesse nazionale, prosegue il comunicato, si trovano a tutt'oggi senza passi concreti nella bonifica. Il riferimento è all'area industriale e alla discarica Tremonti, di cui è responsabile Edison, che sebbene sia l'origine dell'inquinamento delle falde acquifere, non registra alcun progresso nella rimozione dei rifiuti tossici. Il vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti sullo stato di abbandono della palazzina di Via Rigopiano a Pescara, che è proprietà dell'ASR. Il servizio è di Paolo Rezzetti. Un esposto indirizzato alla Corte dei Conti, Procura regionale Abruzzo, è stato firmato dal vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. L'oggetto della verifica riguarda la famigerata palazzina di Via Rigopiano a Pescara, che dopo sette anni dall'acquisto da parte della ASR, è ancora abbandonata in stato di decadimento. Questa è la denuncia dell'esponente del Movimento 5 Stelle, che questa mattina in conferenza stampa ha ribadito. Questa è una battaglia di verità, sulla quale non mi stancherò mai di chiedere giustizia. Palazzo della ASR, acquistato nel 2014, pagato 2 milioni e 800 mila euro, poi si scopre che servono, servirebbero altri 4 milioni di euro per ristrutturarlo. Il fatto sta che dal 2014 ad oggi sta in questo stato, stato di grave faticenza, abbandono totale, lo potete vedere alle mie spalle, sono soldi pubblici, pagati naturalmente dalla collettività dei cittadini per acquistare questo palazzo. Io ho sempre detto, dall'inizio mi sono opposto a questo acquisto, dicevo che c'erano diversi immobili di proprietà che potevano essere utilizzati, la ASR ha acquistato questo palazzo. Bene, ora a distanza di 7 anni, noi abbiamo ancora questo palazzo così in questo stato, io sono stato costretto a presentare un esposto alla Procura regionale della Corte dei Condi per valutare se vi siano elementi degni di approfondimento giudiziario. A mio avviso non è possibile questo, abbiamo bisogno di reparti, di stanze, di poliambulatori, di distretti, potremmo mettergli ambulatori, quindi questa struttura sarebbe servita, sicuramente a mio avviso dovevano utilizzare altre, ma sarebbe comunque servita in questo gap, a maggior ragione in questo periodo di grave pandemia, comunque potevamo utilizzarlo per diverse situazioni ambulatorie affini all'ospedale di Pescara, questo sta ancora così in abbandono. Sono arrivati anche fondi, fondi ministeriali, siamo tutti a conoscenza, io veramente sono completamente rammaricato e arrabbiato perché chiudono gli ospedali, si declassano gli ospedali, si depotenziano gli ospedali, poi si spendono 2 milioni e 800 mila euro per una struttura così, mi auguro che la Corte dei Condi faccia chiarezza e ci dica appunto come stanno realmente le cose. Parliamo di Covid perché il numero dei positivi cresce, cresce in tutta la regione e cresce anche a Francavilla al mare. Il sindaco Luisa Russo è in continuo contatto con l'Asl per il monitoraggio, vediamo. Continuano a crescere i casi Covid in Abruzzo, anche a Francavilla c'è stato un aumento dei positivi, situazione sotto controllo che però voi state monitorando come amministrazione comunale? Sì, stiamo monitorando, c'è stato un aumento, proprio in questi ultimi giorni abbiamo avuto 8-10 contagi Covid, li ho contattati e li ho sentiti telefonicamente, la maggior parte di loro non è vaccinata, chi è vaccinato era in attesa della terza dose, quindi era scaduto il periodo, erano passati 6 mesi, ma comunque i vaccinati sono completamente asintomatici, gli altri hanno dei piccoli sintomi, fortunatamente nessuno è ospedalizzato, quindi la situazione è sotto controllo, ma bisogna assolutamente insistere con la vaccinazione e con il rispetto di tutte le norme Covid. Siamo in continuo contatto con l'Asl, ho chiesto che prevedessero delle giornate di vaccinazione anche a Francavilla e a breve mi daranno due date per il mese di novembre, quindi hanno accolto la nostra richiesta per evitare soprattutto le persone anziane o fragili si debbano recare al di fuori dei confini territoriali. Quanto riguarda le scuole non ci sono invece problemi particolari? No, mi pare che c'era qualche caso in una classe se non sbaglio, però è ancora tutto sotto controllo e soprattutto non ci sono problemi di ospedalizzazione, quindi andiamo nella strada giusta ma dobbiamo spingere ancora l'acceleratore perché la percentuale è ancora bassa dei vaccinati. Si va verso le festività natalizie, si va verso anche il periodo più freddo dell'anno, sotto questo punto di vista c'è un pizzico di preoccupazione? La preoccupazione resta sempre, è sempre alta e quindi io invito sempre veramente alla cautela all'utilizzo delle mascherine che è uno strumento ancora fondamentale e dobbiamo assolutamente evitare di nuovi lockdown, ulteriori lockdown e quindi ripeto, ribadisco, lo dirò per sempre, secondo me l'unica strada è quella della vaccinazione quindi ascoltate i vostri medici, chiacchierate, approfondite e vaccinatevi. Intesa tra l'assessorato alle politiche sociali del comune di Montesilvano e la SIGAD della ASL di Pescara, obiettivo quello di includere nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi i ragazzi con disabilità neuropsichiche. Stefano Recanati Un nuovo progetto di inclusione sociale, quello promosso dal comune di Montesilvano in collaborazione con il servizio SIGAD della ASL di Pescara che prevede un percorso di formazione per giovani adulti con disabilità neuropsichica includendo anche quelle persone affette da autismo. L'obiettivo è quello di orientare ad un'effettiva inclusione nel mondo lavorativo un appello che l'assessore alle politiche sociali Sandra Santa Venere fa soprattutto agli enti ospitanti per accogliere questi ragazzi. Avremo la possibilità di far fare ai ragazzi che grazie agli operatori del SIGAD un'equip altamente qualificata hanno la certificazione perché appunto hanno seguito un percorso di evidenza delle trasparenze, diciamo, delle loro competenze e potranno accedere a dei tirocini questi tirocini verranno fatti all'interno appunto di enti o aziende ospitanti che potranno poi accogliere in maniera appunto definitiva i ragazzi giovani insomma che hanno fatto questo percorso nel mondo del lavoro. La SIGAD ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere degli adolescenti residenti nel territorio dell'ASL di Pescara un'equip multiprofessionale e multidisciplinare che offre orientamento ed accompagnamento all'inclusione e supporto alle persone con disabilità. Cioè noi dobbiamo cercare davvero di accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro e quindi fare incontrare le loro competenze, la loro capacità con l'offerta di lavoro e quindi anche fare in modo che ci sia una predisposizione una sensibilizzazione da parte delle aziende proprio ad accogliere i ragazzi e però mettere a frutto quelle che sono le loro competenze. Presentate oggi a Francavilla al mare le attività dell'oratorio San Franco fuori aperto su iniziativa del nuovo parroco di Santa Maria Maggiore, Roberto Antonucci. Il servizio. Riparte più che mai l'attività dell'oratorio della Chiesa di San Franco a Francavilla. Gran richiesta, passato il periodo più difficile della pandemia, tornate a fare anche delle attività in presenza. Sì, sì, è richiesto proprio questo aspetto della presenza. Le necessità ci sono state presentate in più occasioni dai genitori, penso al pronto soccorso scolastico, anche all'accompagnamento pomeridiano, alla socializzazione. Anche i genitori ci chiedono di aiutarli, ancorché indirettamente nell'opera di educazione e di formazione. In questo dunque l'oratorio non potrà che svolgere un ruolo importante. Qualcuno pensa che l'oratorio sia prevalentemente la struttura, le aule, gli spazi. Certamente questi sono necessari perché in mancanza non faremmo nulla. Però l'oratorio è prima di tutto comunità, sta a cuore la comunità, è una parte della comunità e quindi è in questo senso che aderiamo, abbiamo aderito senza nessun tipo di problemi. Siamo contenti, soddisfatti. È un'opera di arricchimento per i giovani, per parte loro, ma per tutta la comunità. Io dicevo poc'anzi che una comunità nella quale non ci fosse l'oratorio, ancorché certo non ci sono ovunque le condizioni, mancherebbe di qualcosa, sarebbe un po' più povera. Naturalmente poi c'è una particolarità nell'oratorio che sta per riprendere. Certo che, come posso dire, il bacino di utenza è prevalentemente quello giovanile, i ragazzi e i giovani. Però c'è un'attenzione particolare anche per quelli più avanti negli anni, per gli adulti, per gli anziani. Penso in particolare all'opera dello psicologo. E lì non ci sono, non ci potrebbero essere limiti di età. Ripeto, nel passato l'oratorio ha fatto belle cose in questa comunità. C'è il desiderio di ricominciare e c'è la promessa da parte di tutti, non ultimo anche delle pubbliche autorità, di darci, ovve possibile e come è possibile, anche una mano per riprendere e andare avanti. Ora la cultura si chiude la rassegna jazz autunnale dal titolo Adriatic Jazz Women as Leaders, promossa e organizzata dall'ente Manifestazioni Pescaresi, sotto la direzione artistica del maestro Angelo Valori. I concerti con Selena Brancale e Karima hanno visto sul palco i giovani della Medit Orchestra, composta per due terzi al femminile, per lo più Under 35 con 12 archi e la sezione ritmica al servizio. Torniamo a incontrare Selena Brancale dopo i successi di quest'estate. Ricordiamo anche la presenza nella stagione Pescara Jazz con un magnifico concerto, con musica italiana e napoletana, invece stasera siamo a Roma, due passi dal Colosseo, di fronte al Colosseo. Cosa presenti oggi con la Medit Orchestra? È un prolungamento di quello che è stato al Pescara Jazz. Proponiamo un repertorio italiano dell'It, io e Angelo Valori abbiamo cercato di selezionare la musica italiana che ci piace, canta autorale di gusto, che sia un giusto compromesso tra il pop e il jazz. Quindi facciamo un viaggio nella musica napoletana, De Crescenzo, James Senese, Pino Daniele, ma anche Lucio Dalla e Ornella Vanoni. Quindi non soltanto Napoli, ma la musica bella italiana che ci piace ricordare. Tu la interpreti in chiave jazz con tantissima originalità, con tanto calore. Il pubblico ti adora perché tu hai un po' rinnovato il modo di cantare una certa musica italiana. Ci proviamo. Mi piace sperimentare un po' come tutti quelli che amano la musica al 100%, quindi per me la musica napoletana è la musica araba e non c'è distinzione tra il jazz e il pop. Un po' come tutti quelli che si cimentano di sperimentazione. Ecco, io la musica la vivo in questa maniera qua. Carima e Angelo Valori, Medit Orchestra, per uno spettacolo che ha scaldato l'aurum. Allora Carima torna in Abruzzo dopo spoltore l'ensemble e tanti altri appuntamenti. Sì, sono felicissima e ormai mi sento un po' a casa perché insomma sto venendo spesso, sono molto contenta, è stato un concerto sorprendente, molto bello, ci siamo divertiti. Per quanto mi riguarda è un po' breve, è volato e quindi è un buon segno, significa che la musica è girata nel verso giusto. Angelo Valori, Medit Orchestra, sta applauditissima con i ragazzi del conservatorio. Parliamo un po' di questo successo, increscendo tanti artisti, tanti brani, arrangiamenti molto originali. Sì, è un momento molto felice, sono ragazzi giovani, molto bravi, quindi credo che per loro sia una grande esperienza. Peraltro avere la possibilità di condividere il palco con artisti di questo livello è una grande fortuna, diciamo. Penso che per i giovani che iniziano l'attività sia veramente importante fare questo tipo di esperienza a fianco di artisti affermati. e quindi continuiamo il cammino. Brani da no filter, brani al repertorio italiano, ma soprattutto rientro il saluto del pubblico. Dicevi che ti sei anche un po' abruzzese, diciamo, vieni spesso qui da noi, i tuoi fan crescono. Sì, i miei fan crescono e devo dire poi ogni volta che vengo mangio sempre le rusticine. E quindi, niente, mi piace molto. E ora la pagina dedicata allo sport. Partiamo dal calcio di Serie C, lunedì sera posticipo di alta classifica per il Pescara che va a Cesena ad affrontare i bianconeri secondi della classe dietro la reggiana biancazzurri che oggi si allenano al di Febo di Silvi e che arriveranno dalla sconfitta nel derby di Coppa Italia di mercoledì sera in Casa del Teramo. Ma in campionato, l'ultimo match, quello vinto con l'Olbia, ha rilanciato le ambizioni della squadra di Auteri che dovrebbe riproporre Galano nel tridente offensivo. Ballottaggio tra Ferrari e De Marchi per il ruolo di attaccante centrale. Altro ballottaggio dietro tra Ingrosso e Veroli. In porta va Sorrentino, visto che ieri Di Gennaro si è sottoposto all'operazione La Clavicola che lo costringerà a rimanere lontano dai campi per alcune settimane. Ed ecco perché la dirigenza del Delfino sta sondando il mercato dei portieri svincolati per sostituire temporaneamente il proprio titolare. In pole ci sarebbe Alessandro Iacobucci, trentenne pescarese senza contratto, che nei prossimi giorni potrebbe firmare l'accordo col Pescara. Nel Cesena ieri partitella a tutto campo a cui hanno preso parte anche Zecca, Adamoli e Candela. Allenamento differenziato invece per Brambilla tra palestra, fisioterapia e corsa. La preparazione in vista del Pescara proseguirà con una seduta in programma oggi pomeriggio, sempre al centro Rognoni. E per quanto riguarda le scelte di formazione non dovrebbero esserci grandi novità rispetto all'undici che ha pareggiato al Manuzzi domenica scorsa contro la Pistoiese. In mezzo va Alex Rigoni con Ilari e Ardizzone mentre davanti Bortolussi con il sostegno di Caturano. E domani pomeriggio in campo il Teramo alle 14.30 contro la Fermana per la tredicesima di andata nei biancorossi reduci dal successo in Coppa di mercoledì come dicevamo contro il Pescara torna Arrigoni a centro campo davanti Rosso favorito su Birligea mentre dietro Out ancora Soprano e con Andreca a sinistra favorito su Rillo nei marchigiani fuori urbinati che ha riportato una lesione al muscolo pettinio durante uno degli ultimi allenamenti per il resto gruppo che ha lavorato compatto ad eccezione dei lungodegenti De Pascalis, Boateng e Trezza. Ascoltiamo Federico Guidi alla vigilia del match del Bonolis. La partita ha sicuramente ridato delle certezze dell'autostima, consapevolezza in quelli che devono essere i nostri principi di gioco le nostre idee soprattutto l'atteggiamento che ci deve contraddistinguere e che ci aveva contraddistinto per lunghi tratti della stagione a parte le due parentesi di Cesena con tutte le difficoltà del caso ma soprattutto quella contro il Montevarchi. È chiaro che dentro il mio stato d'animo se ti dovessi spiegare il mio stato d'animo è ancora uno stato d'animo molto arrabbiato molto deluso per aver gettato al vento una partita di campionato e non tanto per la sconfitta ma per come è venuta fuori perché poi le partite si possono anche perdere però ci deve essere tanto della bravura degli avversari piuttosto che del nostro mancato atteggiamento della nostra mancanza di concentrazione di furor agonistico la partita con il Pescara ci ha detto che la squadra ha ricepito il messaggio ora è chiaro che dobbiamo proseguire su quella strada che è stata tracciata e l'entusiasmo che ci ha ricreato dentro e soprattutto le certezze che ci ha ridato la partita contro il Pescara bisogna rimetterla in campo contro la Fermana che è una partita in chiave campionato estremamente importante e la Fermana quest'anno ha fatto una politica diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime stagioni perché ha abbandonato l'idea di fare il minutaggio e ha deciso di fare una squadra molto esperta con giocatori estremamente importanti per fare un campionato molto più tranquillo per poter ambire anche alla zona playoff quindi è una squadra costruita per questo e quindi sappiamo che abbiamo di fronte una squadra forte una squadra che nell'ultimo periodo ha trovato una chiara identità con il cambio di allenatore ha trovato solidità ha fatto sette punti nelle ultime tre partite questa testimonianza che ora la squadra è tra virgolette partita ha trovato grandi miglioramenti nell'ultimo periodo no no ma la valutazione me l'hanno cambiata certamente perché è chiaro che ogni partita è un'opportunità e io non posso essere insensibile in quello che ho visto mercoledì sera quindi loro questo lo sanno ed è per questo che non devono sbagliare gli atteggiamenti perché nel momento in cui sbagli l'atteggiamento è chiaro che nella mia testa passa il messaggio che io di questo calciatore non posso fare affidamento perché al di là di quello che viene fuori io parlo di prestazione perché poi puoi vincere o puoi perdere e quindi mercoledì sera tutti i protagonisti di mercoledì sera si sono espressi al massimo delle loro potenzialità e si sono espressi bene molto bene come squadra quindi assolutamente sì magari anche coloro che fino a questo momento erano più indietro per molti motivi le distanze si sono viste assottigliate in maniera in maniera chiara quindi ora sono molto vicini tutti quanti e tutti possono veramente giocare Serie D Saracchieti Castelnuovo lo scontro tutto abruzzese tutto nero verde a caratterizzare l'ottava giornata i quattro casi covid all'interno del gruppo squadra del notaresco invece fanno saltare la gara col Matese mettendo a rischio i prossimi appuntamenti dei Rosso Blu per Vastese e Nereto infine impegni in trasferta nelle Marche contro Tolentino e Re Canatese facciamo il punto con Jacopo Vorcella Lo scontro tutto a tinte nero verdi dello stadio Guido Angelini di Chieti sarà quello che catalizzerà le maggiori attenzioni della nostra regione nella giornata numero 8 del campionato di Serie D perché nei 90 minuti Chieti e Castelnuovo avranno più di un motivo a testa per centrare un successo che metterebbe invece in ambasce chi uscirà senza raccogliere nulla i padroni di casa di Alessandro Lucarelli tra le mura amiche non hanno ancora mai fatto bottino pieno ma soprattutto la vittoria manca da inizio l'ottobre dal Blitz da Riviera delle Palme contro il Porto D'Ascoli tre pari e uno stop non sono sufficienti e l'arrivo di Cristian Mentola aggiunge ulteriore tasso tecnico ad una formazione che vorrebbe regalare una gioia ai propri tifosi nel proprio stadio tornano a disposizione chiacchia e Fabrizi mentre sarà ancora a Otterodia non sarà semplice perché dalla parte opposta il Chieti troverà un Castelnuovo rinvigorito in settimana dalla vittoria rotonda in Coppa Italia contro il Vasso Girardi e dopo una settimana che l'ha visto praticamente solo fare Capolino in campionato contro la Recanatese il match con i Lopardiani interrotto sabato scorso per l'infortunio del direttore di gara sarà ripreso il prossimo 24 novembre in derby una partita tosta perché il Chieti è una squadra forte ma come lo sono tutti dobbiamo solo preparare bene la partita e sapere che andiamo anche a giocare in un ambientino particolare quindi però sono convinto che i miei ragazzi questa vittoria abbia fatto bene abbiamo fatto dei bei discorsetti in settimana e si è visto appunto che questa squadra sta crescendo che questa squadra è forte che questa squadra se gioca insieme può mettere in difficoltà chiunque basta Girardi che avrà un altro impegno in Abruzzo ma stavolta il Mariani Pavone di Pineto contro i Biancazzurri di Marco Pomante sfida che arriva ad una settimana dalla sconfitta di misura nello scontro diretto contro il Fioggi e che deve servire al Pineto per rilanciare di nuovo la rincorsa alla vetta fallita sette giorni fa di fronte però avrà i molisani di Prosperi che al netto dello scivolone in Coppa in campionato sono in serie aperta due vittorie e un pari negli ultimi tre incontri dispiace dispiace perché veniamo da un'ottima prestazione su un campo difficile però come abbiamo visto tutto il risultato non è stato positivo però ripartiamo sempre dalla prestazione importante con la consapevolezza che possiamo fare molto molto di più perché è vero che abbiamo giocato bene però siamo stati poco lucidi nel concludere le azioni si si affrontiamo una squadra in fiducia una squadra che viene da due ottimi risultati positivi come la vittoria col Dattolentino e la vittoria in casa con la San Monettese una squadra organizzata che sa quello che deve fare in campo io l'allenatore Fabio Prosperi lo conosco bene anche perché siamo amici sarà una partita difficile si si andiamo a arricchire il nostro pacco under perché è normale sapete tutti dell'infortunio di Rea che ormai manca dai campi di gioco da un mese un mese e mezzo era un giocatore che andavamo cercando abbiamo avuto questa possibilità di prendere Mirabelli e l'abbiamo colto in pieno rinviata invece la gara tra Notaresco e Matese il caso di positività riscontrato nei giorni scorsi nel gruppo squadra rosso-blu e gli allenamenti che da quel momento in avanti sono stati scaglionati per forza di cose non sono serviti ad evitare che i casi sarissero adesso a quattro questo ha fatto scattare l'allarme in casa Notaresco e alla richiesta di rinvio della partita è il numero che tende a salire mette a rischio la gara di Coppa Italia di mercoledì contro la San Benedettese e addirittura la trasferta di Castelfidardo di domenica prossima a questo punto bisognerà capire quando le due formazioni torneranno sul terreno di gioco per il recupero del match con Notaresco che pur malvolentieri sarà costretto domani a guardare le altre dal divano chi va in trasferta invece sono Vastese e Nereto i biancorossi di Fulvio D'Adderio hanno chiuso la sessione invernale di mercato senza il colpo davanti e senza quello in mezzo è tornato Diallo ma adesso con Martiniello che è rimasto e non avendo potuto prendere l'eventuale sostituto toccherà al tecnico cercare di trovare l'equilibrio migliore davanti anche perché domani la sfida contro i Cremisi è una di quelle che potrebbe consentire di fare un piccolo salto di qualità Vastese che vincendo infatti supererebbe i rivali in graduatoria e si attesterebbe su posizioni più consone al valore dell'organico dall'altra parte un Tolentino col morale sotto i tacchi dopo i tre stop consecutivi infine il Nereto che è cambiato tantissimo specie in uscita in questa finestra trasferimenti e ha inserito solamente l'attaccante Boito proveniente da Rende un organico meno profondo per Leonardo Bitetto che vuole evidentemente individuare un gruppo più ristretto col quale giocarsi la salvezza che passa dalla trasferta difficilissima di Recanati dove i vibratiani troveranno i giallorossi che dopo la sconfitta all'esordio proprio contro il Tolentino hanno iniziato a correre davvero una marcia che li ha portati a quota 16 punti ad essere in questo momento l'inseguitrice più accreditata della capolista fiuggi è tutto per questa prima edizione del TG6 i servizi che avete visto sono sul nostro canale youtube sul sito tv6.it l'informazione tornerà questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio